Allora ciao a tutti e benvenuti sul canale Excel Espresso. Oggi andremo a vedere la funzione somma e come velocizzare il tutto tramite la somma automatica. Ma andiamo a vedere al lato pratico la funzione somma cosa ci permette di fare. Allora iniziamo con la sintassi quindi uguale somma apro parentesi e qui vedete che mi viene indicato numero 1 quindi posso indicare il mio numero 10. Separo dal punto e virgola posso mettere un altro numero 15 chiudo la mia parentesi invio ed ottengo il mio risultato. Come vi ho detto all'inizio oltre ad indicare dei valori posso sommare anche dei riferimenti. Quindi uguale somma apro parentesi e vado a prendere questo valore. Punto e virgola un altro riferimento questo valore. Chiudo la parentesi invio ed ottengo il risultato. Intervalli. Procediamo uguale somma. Apro la mia parentesi e vado a prendermi questi intervallo. Chiuso parentesi invio. Quindi abbiamo visto la funzione somma con dei valori con dei riferimenti e con degli intervalli. ma possiamo utilizzarli tutti e tre nella stessa funzione. Uguale. Somma. Apro la mia parentesi. Metto un valore. Separo quel punto e virgola. Vado a prendere un riferimento. Punto virgola e un intervallo. Chiudo. Invio. Ed ottengo sempre il mio risultato. Ok. Cancelliamo questa parte e andiamo a vedere proprio all'atto pratico. Dopo aver fatto questi semplici esempi entriamo nel vivo e vediamo come poter utilizzare la funzione somma su questa tabella. Quindi portiamoci nella cella B10 e facciamo le operazioni che abbiamo visto prima. Quindi uguale somma. Apro parentesi. Vado a prendere il mio primo valore. Punto e virgola. Vado a prendere il mio secondo valore. Chiudo parentesi. Invio. Ed ottengo il risultato. Velocizziamo un pochettino l'operazione. Uguale somma. Aperta parentesi. E vado a riprendere il mio intervallo. Chiudo parentesi. All'inizio se vi ricordate vi ho accennato anche la possibilità di effettuare una somma automatica. Vediamo di cosa si tratta. Mi porto nella cella M10 e semplicemente premendo sulla somma automatica Excel farà tutto il resto. Quindi senza dover digitare nulla. Invio ed ottengo il mio risultato. Vogliamo essere ancora più veloci? Per poter avere la somma di tutti i mesi rimanenti non dovrò digitare ulteriormente la mia funzione. Ma basta semplicemente portarmi sulla cella. Quando evidenzio il più sul quadratino tengo premuto il pulsante sinistro del mouse e mi sposto per i mesi in cui non ho questi valori. Rilascio ed ottengo in un colpo solo tutti i valori voluti. Ok? Passiamo ora al foglio uscite e ripetiamo queste operazioni. Mi posiziono nella cella B15 e utilizzo la funzione automatica. Mi accorgo però di una cosa che non mi ha preso tutti i valori voluti. Quindi cosa devo fare? Devo andare ad ampliare l'intervallo. Mi posiziono su questo quadratino, ho la frecciolina, col pulsante sinistro tengo premuto e vado ad ampliare l'intervallo. Invio ed ottengo il risultato. come abbiamo visto prima mi posiziono sulla cella B15 sempre con il più, pulsante sinistro del mouse, premuto, trascino ed ottengo velocemente il risultato voluto. Ok? Adesso facciamo un'operazione un pelino più difficile. In questo modo ho trovato i miei totali sia per il foglio entrate mese sia per il foglio uscite mese. Ma se io volessi avere il totale complessivo quindi di tutto l'anno cosa posso fare? Portiamoci nel foglio anno, mi metto nella cella B5 e voglio avere la somma di tutti gli stipendi. uguale, somma, apro la parentesi, qua cosa dovrò mettere come numero 1? Vado a prendere nel foglio entrate mese tutti i valori dello stipendio 1. In questo modo poi. Chiudo parentesi, invio ed ottengo la somma. Posso fare la stessa operazione per lo stipendio 2 però posso velocizzare il tutto mettendomi qui ed effettuando sempre l'operazione che abbiamo visto prima. Quindi col quadratino, trascino e in automatico Excel farà la stessa operazione anche per le altre voci quindi per lo stipendio 2, per i guadagni e per gli ingressi vari. Faccio la stessa operazione per le uscite, uguale somma, apro la parentesi, mi sposto sul foglio uscite e faccio la stessa operazione di prima. chiudo parentesi, invio. Ok. Con l'operazione già vista in precedenza prendo e trascino e ottengo automaticamente la mia somma per quanto riguarda ingressi ed usciti annuali. Avendo trovato la somma annuale delle entrate e delle uscite, andiamo a calcolarci il totale risparmiato nell'arco dell'anno. Quindi si tratterà semplicemente di fare una differenza di somme. Uguale, somma, apro parentesi, questi valori. Chiuso parentesi, invio. Nel medesimo modo, visto in precedenza, posso ottenere questa differenza anche sulla stima fatta. Anche oggi siamo arrivati alla fine, un grazie come al solito ed un like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e chiudo ricordandovi Excel Espresso, il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel. Espresso, il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel. Espresso, il modo più semplice e veloce per imparare ad usare Excel.